Un incendio devastante, una corsa disperata contro il tempo e segreti che minacciano di distruggere tutto. Cosa accadrà ora? Nelle puntate della Promessa, in onda dal 18 al 24 agosto 2024, assisteremo a una serie di eventi mozzafiato, che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Shimena, ormai in preda a una follia incontrollabile, decide di rinchiudere Catalina nella sua stanza, proprio mentre un incendio divampa nella tenuta. Le fiamme si diffondono velocemente e la situazione diventa critica. Riuscirà qualcuno a intervenire in tempo per salvarla? O la tragedia è inevitabile? Nel frattempo, Feliciano viene travolto da una sconvolgente rivelazione su Petra, che minaccia di cambiare per sempre il loro rapporto. E mentre Curro, in bilico tra il dovere e il desiderio, prende la decisione di non partire più per l'Inghilterra, Lorenzo è determinato a liberarsi di lui, in qualunque modo. Ma le tensioni non finiscono qui. Catalina, gravemente ferita e con la vita appesa a un filo, ha un'unica speranza di sopravvivenza, una terapia con l'ossigeno. Tuttavia, il destino sembra accanirsi contro di lei. Mauro e Pelaio, in viaggio per procurare l'ossigeno, subiscono un guasto alla moto per la gioia di Cruz, che non ha mai voluto che Catalina si riprendesse. E proprio quando la situazione sembra volgere al peggio, un altro colpo di scena scuote le fondamenta della tenuta. Dopo aver perso completamente il controllo e temendo di essere internata in un sanatorio, Jimena decide di lasciare la promessa, ma non prima di aver lasciato dietro di sé una scia di distruzione e panico. Martina, con un coraggio inaspettato, riesce a salvare Catalina dall'attacco di Jimena. Ma cosa accadrà ora che la donna è più tranquilla e apparentemente fuori pericolo? È davvero tutto finito o ci aspetta un nuovo dramma dietro l'angolo? Mentre Curro e Martina lottano per contenere i loro sentimenti, l'amore proibito tra di loro diventa sempre più evidente. E quando Catalina e Pelaio ricevono a sorpresa la visita del signor Cavendish, tutto sembra andare per il meglio, almeno fino a quando Jimena approfitta dell'assenza dei marchesi per dare scandalo. L'intero equilibrio della tenuta è a rischio. E nonostante gli sforzi di Catalina e Margarita per calmare le acque, l'imbarazzo e il disagio si diffondono tra gli ospiti. Ma non è tutto. Cruz rivela a Feliciano e Petra che il sergente Funes sta indagando sulla morte del loro padre, gettando ulteriori ombre sul loro passato. La situazione si complica ulteriormente quando Jimena, durante una partita a carte, ha una nuova crisi e si scaglia contro Martina, Catalina e Curro, alimentando ulteriormente le tensioni. Geronimo non perde l'occasione di mettere Jimena in difficoltà, rivelandole che Catalina ha intenzione di farla ricoverare in un sanatorio, scatenando una reazione violenta e incontrollabile. Mentre la tenuta si avvolge nel caos, il signor Cavendish, testimone di tutto questo, è sul punto di interrompere i suoi affari con Pelaio e Geronimo. Tuttavia, grazie all'intervento del conte, riesce a convincerlo a rimandare la sua decisione. Nel frattempo, Lorenzo trama nell'ombra, cercando di arruolare Curro nell'esercito per liberarsi di lui, mentre Abel scopre una terapia innovativa che potrebbe salvare Catalina, ma l'ossigeno necessario tarda ad arrivare a causa dei sabotaggi orchestrati da Cruz. E proprio quando sembra che la calma stia per tornare, un altro evento sconvolge la promessa. Durante la visita del signor Cavendish, Jimena ha un crollo nervoso e prende Catalina in ostaggio, bloccando tutti fuori dalla sua stanza. La tensione è alle stelle, e mentre Valentin cerca disperatamente di avvicinarsi a Maria, riceve un brusco rifiuto. Curro, desideroso di scusarsi con Lorenzo per la sua decisione di non partire, si scontra con il disprezzo del padre. Ma le sorprese non sono finite. Quando Jimena tenta di prendere una tannica di combustibile dall'hangar, il suo piano viene interrotto dall'arrivo provvidenziale di Geronimo e Pelaio, che cercano Catalina proprio mentre Manuel torna alla tenuta e scopre il disastro che Jimena ha provocato. Gianna, nel frattempo, scopre che Jimena ha appiccato l'incendio, e per fortuna riesce a portare Catalina in salvo. Ma le conseguenze sono terribili. Catalina è gravemente ustionata e ha inalato tanto fumo, rendendo la sua situazione ancora più critica. Nonostante tutto, Catalina riesce a rivelare che è stata Jimena la responsabile dell'incendio. Romulo, che ha rischiato la vita per salvarla, è ora in pericolo a causa del fumo inalato, aggravando la sua già precaria salute polmonare. E mentre la tenuta è in subbuglio, il signor Cavendish è deciso a interrompere i suoi affari, ma il conte tenta l'impossibile per trattenerlo. Ora, la domanda è, cosa accadrà alla promessa? Riusciranno a riprendersi da questa catena di eventi tragici? Quali segreti verranno ancora alla luce? Non dimenticate di commentare con le vostre teorie e opinioni. Chi riuscirà a sopravvivere a questo inferno di intrighi e tradimenti? E soprattutto, tornerete a vedere cosa accadrà la prossima settimana? Il destino di la promessa è in bilico, e solo voi potete scoprire come andrà a finire. Rimanete con noi, perché il peggio potrebbe ancora arrivare.